E' nata questa iniziativa? Allora, abbiamo, solo dopo l'approvazione della mozione di Riffro di Zero, abbiamo analizzato un pochino con i veri unitati della raccolta differenziata di Lignano e trovando che secondo noi in questo momento la raccolta differenziata era inefficiente e forse anche anti-economica, abbiamo pensato, quindi era soprattutto un costo, abbiamo pensato che forse il Comune di Lignano, aderendo a una convenzione che viene essere fra Anci e Conai, potrebbe gestire quantomeno la carta in proprio, cercando poi di dare un piccolo beneficio sia in termini di raccolta differenziata che in termini di ricaduta economica per quanto riguarda la bolletta dei cittadini. Come funzionerà in pratica l'iniziativa? Allora, questa voglia di essere il Comune a metterla in piedi fisicamente, noi abbiamo lanciato un pochino il sasso nella proposta, noi pensiamo che quando il cittadino andrà a conferire la carta nei centri di raccolta possiamo organizzare il nostro Comune, dopo una pesata possa avere un piccolo buono con cui poter andare a fare la spesa nei negozi convenzionali sul nostro territorio e questo può essere fatto per la carta o in seguito anche per la plastica, altri tipi di materiale.